Buon pomeriggio a te, come stai? È un po' che non... È una settimana che non ci socialiamo Io quando passano le settimane, per me è passato un mese Allora facciamoci questa chiacchierata Facciamocela dai Perché abbiamo fatto diverse, oddio, pubblicazioni sul 27 Quindi diamo un senso a queste pubblicazioni Cosa facciamo il 27 giugno di lunedì alle ore 9 da Air Professional In quel di Prosecco? Facciamo un bel corso, che poi per me è una riunione, un confronto È una sorta di tavola rotonda con un po' di saloni di acconciatura Clienti di Air Professional Sicuramente è innovativo come approccio Perché si parlerà delle esigenze di un salone tipico E anche delle soluzioni tradizionalmente utilizzate all'interno del salone Per rispondere a queste esigenze E alla fine si farà un cenno Magari più di un cenno Comunque ci sarà modo di parlare di quelle che sono invece le soluzioni più evolute Quindi è una sorta di percorso per dimostrare come Partendo dalle esigenze, arrivando alle soluzioni che chiunque potrebbe adottare Senza bisogno di nessun altro Si possa invece poi arrivare a delle soluzioni che grazie alla tecnologia Grazie all'utilizzo del PC e del software gestionale In realtà possono dare strumenti importanti per l'ottenimento di determinati risultati di gestione Però tu lo sai che io sono curioso Quindi non ti dico di entrare in dei dettagli Però almeno due punti ce li vuoi svelare? Ma per esempio Si guarda si parlerà per esempio di clienti Si parlerà della loro soddisfazione E di conseguenza di quali sono le operazioni che tipicamente si dovrebbero svolgere Al fine di ottenere questo risultato Ovvero la soddisfazione del cliente Perché la prima visita del cliente è un fatto importante ed è un tema Ma anche la seconda visita Quindi il famoso riacquisto da parte del cliente nei confronti del salone Quindi si definiscono le esigenze, si definiscono le strategie Si vanno a verificare quali sono le operazioni tradizionali Che si svolgono per far sì che questo avvenga E poi si arriva al fatto tecnologico che aiuta a far sì che la cosa possa succedere in misura ancora maggiore La stessa cosa la facciamo per esempio per i costi Quindi cosa significa analizzare i propri costi Quali sono gli indici di efficienza E una volta verificati gli indici di efficienza Come potervi, diciamo così, come poter far sì che questi indici vengano rispettati con gli strumenti tradizionali Quindi utilizzo della carta, parecchio tempo a disposizione per effettuare le verifiche e le analisi E invece quanto poi diventi decisamente più facile Informatica, salone e centro estetico Come fai a fargli capire che è necessario un cambiamento? Guarda, io oramai, dopo 15 anni, forse anche più Io penso non ci sia neanche più necessità di far capire che è una cosa importante Indubbiamente, anzi il mio pensiero attuale è che tutti coloro che gestiscono un salone oggi O un centro estetico abbiano capito perfettamente quale sia la cosa importante da fare Semmai oggi la domanda è come lo faccio, con chi lo faccio, quanto mi assorbirà, ma ce la farò Qual è il modo migliore per arrivare a farlo? Ecco, quindi secondo me siamo oramai globalmente, anche se possiamo pensare al mercato come una enorme piramide Sicuramente ci sono delle fasce in questa piramide La parte più alta è già da un po' che utilizza software gestionali Mentre la base ancora magari sta facendo ricevute a mano o comunque sta gestendo in maniera tradizionale Però voglio dire che questa cosa sia una cosa importante o mai da fare Non voglio neanche più pensare che sia il caso di sensibilizzare gli imprenditori Per certo l'hanno compreso, indubbiamente la domanda forse oggi di più è con chi, come, chi veramente mi può dare una mano Come faccio a differenziare tra chi vende un prodotto e chi invece dà una soluzione e supporta nella vita quotidiana E non utilizzo degli strumenti di cui stiamo parlando, quindi forse la domanda vera di oggi è questa Allora io colgo la palla al balzo, ti rompo l'acqua al mio mulino, anche perché è il mio lavoro Certo Facebook, i social network, perché è diventato importante per la boss? Ma per la boss è molto più che importante, è l'infa vitale Io due anni fa, quando abbiamo incominciato, e probabilmente siamo anche tra i più recenti Penso che ci siano aziende che abbiano realmente visto qualcosa e incominciato molto prima di noi Per noi ha fatto la differenza, è diventato uno strumento imprescindibile Imprescindibile dall'attività, su qualsiasi aspetto dell'attività che noi svolgiamo Dall'amministrazione fino all'assistenza tecnica, al commerciale Oggi senza social networking è praticamente impossibile vivere È un canale, è un canale di comunicazione, è un canale per farsi conoscere, è un modo per essere a se stessi Dico la verità, a noi ha anche migliorato tanto la vita Nel senso che ci ha orientati ad essere sempre al massimo Perché stare costantemente in una vetrina ti obbliga a rispettare determinati parametri di qualità Oggi grazie a Facebook o meccanismi simili L'informazione viaggia con una perfezione assoluta oramai Tutti sanno tutto E dunque nel momento stesso che non si dovesse lavorare con la giusta livello di qualità Beh quella roba lì va via veloce Quasi ci conoscono senza nemmeno presentarci Sì questo è il tema, beh certamente ma è così Ti conoscono, ti frequentano, anzi è ancora di più Ti frequentano senza neanche conoscerti Cioè in realtà ti sperimentano, hanno a che fare con te E tu non lo sai o lo sai solo in parte Perché se vedi un mi piace o una condivisione te ne rendi conto Però come ben sappiamo, tant'è che sappiamo anche che è cambiato anche l'algoritmo Tante volte e ultimamente ancora di Facebook Tale per cui analizza anche la quantità di tempo che ci si ferma a osservare probabilmente E adesso analizza anche la qualità dei contenuti Quindi capisci bene che è diventato un elemento fondamentale E in continua evoluzione Come bisogna essere sempre Sempre In conclusione possiamo dire che se vogliono fare la differenza Se hanno voglia di cambiare E soprattutto se sono curiosi di sapere come cambiare Quindi l'approccio di questa sorta di cambiamento Ci devono seguire Sicuramente ci devono seguire sulla pagina E noi vogliamo seguire tutti gli altri Perché è un rapporto di mutuo scambio Indubbiamente lunedì con i partecipanti al corso e con i partner Giancarlo e Roberto Cormone di HP Professional Di Air Professional sicuramente avremo modo nell'arco della mattinata di tirarne fuori parecchio Quindi ci si divertirà sicuramente L'intento è indubbiamente quello di far venire fame di questo tipo di argomenti E dunque lo considero tendenzialmente come il primo step Quindi permettimelo stay foolish, stay angry Certo come diceva il grande Steve Ovviamente bisogna sempre avere fame E avere uno sacco di interesse per tutto quello che ci circonda Quindi cari amici social spettatori Oramai questa qui è una frase che l'ho adottata Mi piace Oramai i social spettatori sono i tuoi social spettatori Quindi tutte le volte li chiami per nome Assomiglio un po' Renato Zero Vabbè, un po' mai qui un buongiorno Ok, vabbè Chiamiamola così, magari facciamo la storia Si sa mai Si sa mai Comunque, noi vi aspettiamo perché saremo un po' live, un po' indifferita Beh sì, qualcosa si vedrà ovviamente come sempre Qualcosa non si vedrà, facciamo vedo o non vedo Certo, beh, per chi sarà presente sarà molto interattiva per tutti gli altri Come al solito daremo dei piccoli centri Lunedì 27, Air Professional Prosecco Boss Ciao Ciao Ne Ciao Ciao